eccoci ciao ragazzi oggi faremo il drag paradido numero 1 dei 40 rudimenti base per i batteristi questo qui non vi spiego altro perché tanto se avete bisogno di ulteriori spiegazioni in giro per il web ci sono migliaia migliaia di video che ve lo spiegano però volevo esibirmi in questo esercizio ok pronti via grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti